A Teramo a partire dal 9 dicembre fino al 7 gennaio 2024 i primi 30 minuti di sosta sugli stalli blu saranno gratuiti. Si chiama Jolly Sosta ed è la novità per ora a carattere sperimentale annunciata dal Comune. Basterà parcheggiare su uno degli stalli gestiti dalla Easy Help e inviare un SMS con il numero di targa della propria automobile. Una direzione che abbiamo interpreso come un nuovo momento della convenzione con l'Easy Help sia l'Easy Help che il Comune hanno intenzione di modificare quanto contenuto nella convenzione del 2020 e questo è solo un primo piccolo passo piccolo che poi dopo comunque è una misura strutturale che vorremmo integrare poi per tutta la durata non solo per il periodo natalizio. Il sistema informatico della società che gestisce il servizio una volta inviato l'SMS registrerà l'informazione e gli operatori che effettuano i controlli nei parcheggi ne avranno tempestiva contezza. La gratuità è garantita per 30 minuti per una sola volta al giorno per la stessa automobile. Nel periodo natalizio ne valuteremo anche i profili economico finanziari di ricadute proprio sulla sosta quindi poi a partire da gennaio ci saranno altre misure che vogliamo inserire proprio per in qualche modo agevolare tutti gli utenti da quelli che arrivano in città per il commercio ai residenti che a volte utilizzano anche i parcheggi blu. Sulla questione dei parcheggi ma soprattutto anche del PUMS proposto dal comune i commercianti del centro cittano annunciato per la giornata dell'8 dicembre come segno di protesta dalle 17.30 alle 20 serrande abbassate con luci spente per un'ora. Il tutto in concomitanza con la tradizionale accensione delle luminarie da parte dell'amministrazione. Io sono sempre a favore delle manifestazioni e anche delle proteste quando chiaramente si è in disaccordo con una politica e con una gestione. È chiaro che questa è una convenzione del 2020 che come ho già detto pensiamo assolutamente di modificare insieme alla IC Help e l'IC Help ha dato ampie disponibilità su questo. Quindi io spero sia sul piano urbano di mobilità sostenibile che sui parcheggi che tutta questa energia poi si trasformi anche in proposte concrete perché il piano urbano di mobilità sostenibile può essere ancora modificato, può essere osservato per altri 64 giorni. Quindi abbiamo veramente tutto il tempo ancora per sistemare al meglio le cose e per dotare la città di Terramo del miglior piano possibile.